scolarazione nella scuola vi ex scuola vigilio primo no, non è semplice la testa, non è semplice la testa, non è semplice la testa, c'è la volontà e si farà, solo che ci vuole, c'è adesso la priorità qui è il taglio dell'erba, cioè la prima, la priorità è quella, poi le potature possono anche, possiamo passare un atto in secondo piano, ma quel primo step è questo, il taglio dell'erba, il taglio dell'erba, cioè la dubita che vuole, Grazie a tutti.